Individuata dai carabinieri del Regino in una zona impervia una piantagione di canapa indiana arrestato un 39enne che è stato sorpreso a irrigare la coltivazione. 975 piante di canapa indiana alte circa 50 cm per un peso complessivo di 50 kg. Ecco la vasta piantagione di marijuana individuata dai carabinieri ad Oppidom a Mertini in una zona impervia del centro preaspromontano. I militari della stazione di Castellaccio insieme a personale dello squadrone li portato cacciatori hanno perlustrato la zona scoprendo la coltivazione illecita e sorprendendo all'interno di un'area demaniale in località Gambarella un 39enne della zona con precedenti in materia di sostanze stupefacenti intento a coltivare le piante. L'uomo è stato così arrestato in flagranza di reato. Per lui sono stati disposti i domiciliari. Nell'area i militari hanno trovato anche il materiale vario che serviva per l'irrigazione delle piante. Prosegue dunque l'attività dei militari per contrastare il fenomeno della coltivazione illecita di sostanze stupefacenti attraverso una mirata strategia operativa disposta dal comando provinciale dell'arma di Reggio Calabria i carabinieri continuano l'attività di controllo del territorio che viene perlustrato palmo a palmo un'attività che ha consentito di individuare e sequestrare dall'inizio dell'anno numerose piantagioni situate soprattutto nelle impervie zone montane. Grazie